Abbiamo scoperto una nuova razza animale? Cane tarta! Il tartacane! Tu confermi che è stato avvistato un tartacane? Sì, confermo! Dottor House? Esiste? Matteo, dicono che hanno visto il tartacane! Noi abbiamo un esemplare di questa nuova razza! Sì? Inquadriamo il tartacane! Siamo dei coglioni! Ecco il tartacane! Dobbiamo notare la faccia da cane! Si può essere così coglioni! Eh, di domenica sì! Sì, ma il problema è che siamo coglioni tutta la settimana! Beh, oggi è tollerato! Di domenica si può! Coglione! Il tartacane! Dottor! Io sono stufo! Ma io sono veramente stanco! No! Si sta schiudendo! Vamos! Vamos chica! Vamos! Venga! Venga mi nera! Venga mi nera! Venga! Ero! L'evo! Ciao! 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 ok 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 ok